ciao a tutti e sono roberto sto già parlando da un po quindi mi conoscete per chi ha già partecipato ai webinar precedenti di quale regia dall'altra parte del mio monitor c'è c'è marco che si occupa della parte diciamo di back office delle retrovie e come al solito il nostro talk dove oggi abbiamo il precedente di ospitare massimo fattoretto che ci parlerà che ci parlerà di seo in particolare per i commerce è a disposizione nella seconda parte del talk per tutte le domande che volete alcune le abbiamo già raccolte prima delle webinar come al solito ci sono arrivate prima le altre che arriveranno in diretta poi volentieri le raccogliamo le le sottoporremo e quindi non risparmiatevi iscrivete pure nella nella chat o comunque nelle nell'apposita tab delle domande e verranno raccolte da marco e poi se avremo l'opportunità di aprirvi il microfono le farete voi direttamente a massimo altrimenti leggeremo senza problemi allora intanto ringrazio massimo come dicevo prima per la sua disponibilità ricordo anche che massimo è uno degli sponsor del foricom che si terrà a gennaio il 23 gennaio al tag di milano e adesso lascio la parola a lui per parlarci di e commerce seo vai massimo tutto tuo vendete il monitor corretto la prima slide dovrebbe essere live e non so se è una webcam attiva anche e si vediamo se riesco a toglierla così resta condivisione webcam così magari la linea va via come è sì ok tranquillo perfetto ok adesso massimo fattoletto amministratore delegato della fattoletto sll che si occupa diciamo che ci stiamo verticalizzando ormai sull'e-commerce quindi oggi parleremo appunto di server e-commerce cercherò di darvi degli spunti utili ok farvi vedere insomma secondo la nostra esperienza quali sono gli errori che troviamo in diversi e-commerce che analizziamo ma allo stesso tempo anche cercarvi di farvi capire che senza metodo non si va avanti dove con metodo intendiamo delle operazioni da fare ogni giorno per migliorare costantemente il nostro negozio la nostra vetrina online ci occupiamo come ho detto prima di consulenza seo sono verticali sulla seo dove nel corso degli anni abbiamo aggiunto anche servizi di digital pr fondamentale per avere visibilità in google facebook ads e digital analytics operiamo su diversissimi settori ok professional food finanza automotive medical e da due mesi siamo brand ambassador di SEMrush e questa è una cosa molto molto figa perché come vedrete dopo abbiamo dei tool che al momento insomma non hanno ancora tutti quanti che ci permettono di fare delle cose molto molto carine soprattutto in ottica di analisi competitor e di search intelligence quindi veniamo dunque a noi spero di lasciarvi insomma in questi 15 minuti degli spunti inutili almeno uno ok per farvi migliorare la visibilità in google del vostro e-commerce cosa dovremmo analizzare quindi ogni giorno quando al mattino arriviamo al lavoro allora sicuramente i dati riguardanti il monitoraggio del traffico con analytics adobe o indexmetrica tra l'altro indexmetrica è un tool molto utile a costo zero nel senso che è gratuito che ci consente anche di vedere come gli utenti navigano i nostri e-commerce quindi nella fase cruciale del carrello checkout riusciamo a capire se ci sono vincoli di bottiglia quindi vedrete proprio la registrazione dell'utente con tutte le operazioni che fa sia da desktop che da mobile quindi se ci sono errori in questa fase qui potete monitorarlo bene con yandex è simile a dot jar solo dot jar a pagamento yandex è completamente gratuito e questi sono i tool del traffico e il comportamento poi abbiamo altri tool che sono fondamentali per capire un attimino quali sono le climose stagionali quindi i prodotti da mettere in vetrina i posizionamenti piuttosto che i competitor rispetto ai nostri posizionamenti alcuni tool che monitorano la ricerca interna dell'e-commerce non mi limito solo a monitorare la ricerca interna con google analytics ma ci sono anche dei tool dove ad esempio si ho un e-commerce multimarca che monitorano ad esempio i brand che io totalmente non ho all'interno dell'e-commerce e quindi ricevo un avviso dicendomi guarda che il 10% delle ricerche hanno cercato il brand pippo che te non hai all'interno dell'e-commerce e quindi mi consentono di fare delle strategie di marketing avanzate per cercare di capire se ha senso per me, Merchant, inserire all'interno del e-commerce quel determinato prodotto ci sono poi alcuni tool relativi ad Amazon e SEMrush e HREF che lato SEO sono fondamentali sono come la mano sinistra e la mano destra dove con l'una vado a vedere le metriche off-site e con l'altra vado a vedere le metriche off-site quindi questi qui sono i tool che io giornalmente uso non solo lato consulente SEMrush ma anche lato proprio come gestione dell'e-commerce cosa devo analizzare ogni giorno? quindi quali sono quelle cose che io proprietario dell'e-commerce devo vedere? loro in assoluto i prodotti più visti quindi devo capire cosa cercano gli utenti all'interno dell'e-commerce non solo i prodotti, i singoli prodotti ma anche le categorie più viste come ad esempio anche le pagine più lette se ho un blog all'interno le vendite, meglio se lo portate con l'anno scorso per capire come sta andando cosa cercano all'interno dell'e-commerce per capire se l'alberatura è corretta e se la mia home page è organizzata bene magari butto un occhio anche su quali sono le pagine barra prodotti dove gli utenti escono dell'e-commerce e poi vado a vedere come navigano l'e-commerce quindi vado a vedere i flussi di navigazione che fanno gli utenti all'interno dell'e-commerce per capire se sono e-commerce usabili poi ci sono altre cose però queste qui sono quelle diciamo più importanti allo stesso tempo però non mi limito all'e-commerce ma vado a vedere sempre con l'altro occhio cosa fanno i miei competitor quindi se fanno attività di facebook o pay per click su quali canali o instagram ad esempio che posizionamenti hanno in google per capire se ad esempio stanno facendo un determinato miglioramento per una certa tipologia di prodotto o per una categoria se stanno facendo attività di digital PR ad esempio avete controllato se i vostri competitor per l'e-back Friday hanno fatto dei comunicati stampa su portali importanti come era strutturato l'embase i miei competitor come competono con me cioè quali sono le keyword che hanno in comune con me quindi i prodotti che hanno in comune perché in ambito e-commerce keyword uguale prodotto ve lo hanno e soprattutto che piano editoriale hanno per il loro blog quindi che linee editoriale hanno queste cose qua sono fondamentali ok vanno fatte ogni giorno sì perché così riuscite a capire in anticipo se dobbiamo adeguarci al competitor o se possiamo in qualche modo diciamo fregarcene perché diciamo non compete con il nostro business se non lo fate ogni giorno qual è il rischio? il rischio è che i competitor lo fa prima di voi google percepisce la sua strategia prima della vostra e quindi ha vantaggio competitivo non da poco quindi queste cose qui sono attività molto molto importanti noi in fattoreto come le facciamo creiamo dei report ad hoc per i nostri clienti dove oltre a mettere i posizionamenti monitorati con le migliorie che sono quelle in verde e magari alcune opportunità che sono quelle in rosso diamo anche all'interno dello stesso report una panoramica dei competitor dove in verde segniamo le keyword che competono con noi e le poniamo l'attenzione dei nostri clienti quindi in questo modo qua i nostri clienti hanno già questi alert qui direttamente inoltre questo è il tool che vi dicevo prima riusciamo ad analizzare per bene la concorrenza ad esempio andando a vedere le keyword che competono con noi oppure come hanno strutturato il catalogo dei prodotti con eventuali filtri o ancora riusciamo a vedere una stima e questo è uno dei nuovi tool che ha lanciato Semerash che è già attivo per gli accampi diciamo pro dove riesco anche a capire una stima del traffico che hanno i miei utenti e non capisco solo le visite e i visitatori unici ma riesco anche a capire che è questo graffichetto qui sotto dove io il search l'ho segnato con il quadrato rosso se fanno attività diciamo negli altri canali quindi paid, referral, quindi attività di CTA o search e allo stesso tempo hanno la possibilità di inserire con un grafico quindi si percepi subito quali sono i competitor che hanno più keyword in comune con il mio e-commerce in questo caso qui so ad esempio quali sono i competitor che devo magari tenere in coppio perché se competono con me significa che meno male hanno la stessa attività o lo stesso prodotto Massimo scusa ti volevo fare una domanda proprio su quello se puoi tornare indietro sulla questione dei competitor nel momento in cui io vedo il mix di visibilità che hanno i miei competitor secondo te all'interno della strategia e soprattutto all'inizio se ho un budget diciamo non troppo grosso mi conviene andare a competere là dove sono già più forti i miei competitor o cercare appunto la nicchia dove loro non sono presenti e cercare di infilarmi lì allora dipende sempre dal margine che hai del prodotto e dai volumi bisogna sempre partire da quello perché ovviamente avere la nicchia è la cosa migliore perché se si ha la nicchia e vedo che in coppia mi sono scoperto è un po' come ho fatto io per il discorso di da manicomio che dopo comunque lo riprendo un attimino perché lì ci siamo infilati e ci siamo presi il mercato ma in altri casi dove comunque c'è la competizione con Zalanto e Amazon e quindi era difficile di inserirsi allora si è valutato il modo per contrastarli meno male c'è sempre un modo per contrastarli bisogna poi capire però se ci sono più vantaggi o più svantaggi però diciamo che grazie a questi strumenti che abbiamo le decisioni le riusciamo sempre a prendere diciamo in maniera obiettiva ok vai grazie ok questi invece sono alcuni errori dell'Italia gli errori più comuni che vediamo sempre quando prendiamo in mano dell'e-commerce allora abbiamo un oceano di 404 ok o pagine di basso valore quindi quali sono le pagine di basso valore sono quelle pagine ad esempio l'abbaginazione o i filtri che non sono bloccati ai robots.txt ok e che sono quei filtri che non dicono nulla tipo prezzo che va da 20.000 a 25.000 euro quindi ci vuole ovviamente la pianificazione di base ad hoc sull'e-commerce oppure risorse bloccate da una realtà configurazione dei robots altri filtri che potrebbero essere determinanti tipo nome categoria brand ok che sono bloccati dai robots.txt ma dico ma perché visto che chi cerca ad esempio un profumo cerca esattamente il profumo di quel brand quindi in questi casi qua vuol dire avere un e-commerce che è proprio via non con una gamba ma neanche con due gambe proprio via proprio in carrozzina ok oppure le d'aria 301 mancanti l'ottimizzazione della cyber che non vi è lato performance qui ci sarebbe da parlare un giorno o ancora l'interlink interno ok l'interlink interno vuol dire dei link che rimandano ad esempio i prodotti più venduti o gli stagionali o le categorie più importanti che manca proprio dell'home page ok non parliamo poi dell'home page che molte volte non viene nemmeno aggiornata quindi ricordo di dire che nell'home page trovi sempre quella grafica lì ed è molto importante l'aggiornamento anche del banner nella parte dell'head perché appunto quando un utente torna anche se torna il giorno dopo e vede il sito cambiato ha sinonimo di freshness quindi che ci sia qualcuno dietro che effettivamente controlla quel e-commerce che non è un sito statico ma ogni giorno vi è un cambio della retina se notate ogni volta che entrati in Amazon ci sono sempre prodotti differenti ok quindi questa cosa qui anche se il lato server diciamo non è propriamente ideale ma è una cosa molto molto importante in termini di trust ok ma ad esempio i piani tutoriali che non ci sono ad esempio per integrare il posizionamento perché ovviamente l'e-commerce non ha solo query transazionali ma deve avere anche query informazionali soprattutto se siamo in un settore dove siamo trattassati dal pay per check dello shopping e quindi i risultati si arrivano giù l'unico modo uno dei pochi modi per contrastare queste cose qui è lavorare sulle keyword informazionali quindi quali sono le migliori birre rosse oppure quali sono i migliori condizionatori ad ottimo prezzo quindi una serie di contenuti volti a comunque far conoscere i clinici del nostro brand e magari a prenderli come proprio clinici ecco i blog e-commerce molti non hanno nemmeno o ancora il testo nelle categorie magari ci sono non magari ma ci sono grossi anche aziende che il testo categorie non c'è cioè zero oppure se c'è è duplicato dovete sempre far presente questa cosa qui quindi Zalando che è il migliore uno dei migliori e-commerce ha per tutte le categorie un test univoco e originale con molto molto test ma anche fra l'altro e tra l'altro molto lungo sì ho sempre notato questa sì ma in questo contenuto anche l'interlinking quindi queste sono tutte questi sono alcuni errori ok però sono quelli che notiamo più spesso e sono tutti errori molto importanti che infattano direttamente sulla visibilità organica del vostro e-commerce senti a profitto del fatto che stai parlando degli errori più comuni per anticiparti una domanda che mi ero segnato parlando di 404 visto che molti e-commerce hanno prodotti che poi effettivamente vanno in phase out quindi non sono più disponibili nel medio-lungo periodo magari parliamo di elettronica di consumo che è un caso dove un prodotto dopo sei mesi magari non è più in vendita o ancora più spesso in settori come l'alimentare oppure l'abbigliamento dove un prodotto una volta esaurito o esaurita la stagione non è più disponibile in questi casi vedo spesso che vengono appioppate a quelle url delle bellissime 404 nel senso che io vado su un url che magari è indicizzato arrivo sul sito e la pagina non c'è più mi accoglie un bel errore ma quale sarebbe invece la best practice nella gestione di questo tipo di di articoli quindi articoli non più disponibili e non più vendibili ok allora hai fatto bene a dire non più vendibili perché ad esempio nel settore fashion quando un articolo magari va fuori stagione molto spesso viene emesso all'interno di un outlet della sezione chiamata outlet e quindi per caso di la soluzione migliore è creare le daire per cento uno se e-commerce ha nelle url root categoria slash root slash categoria slash prodotto o direttamente se c'è slash prodotto in sto caso qui la pagina continua a rispondere 200 nel caso di prodotti non più vendibili in questo caso di noi cosa facciamo innanzitutto facciamo un controllo se quei prodotti li ricevevano backlink esterni perché se per caso chi linkava Glamour o Grazia o Cash e-commerce fashion sul prodotto che adesso non c'è più tu vai a perdere quelli di lì che è lato seol è molto molto importante diciamo la riniezione di backlink esterni perché ormai per essere visibile non conta più solo tutto ciò che è sito contenuti interventi anzianità del dominio estensione eccetera eccetera ma conta anche tutto ciò che è la self-site quindi la digital PR se vi ne mancare questa cosa qua il sito crolla ok perché è fondamentale ormai avere dei siti ottimi che ti linkano quindi avere 404 significa tagliare se vi sono dei link esterni che sono molto molto utili oltre il fatto di incasinare un attimino Google perché per analizzare il tuo sito non ci impiegherà più un minuto ma magari tutti questi 404 che allunga diventano diversi impiegherà tre minuti e quindi vieni un attimo a deficitare anche lo score del crow budget che dà ad ogni offer quindi bisogna fare molta molta attenzione infatti è per questo che uno di i primi di comuni non ho inserito è proprio l'oceano di 404 ok ti ringrazio l'altra domanda è sempre relativa agli errori è legata invece al blog perché ci sono pareri diversi tra l'internalizzare il blog come terzo livello cioè l'esternalizzare come terzo livello il blog rispetto all'e-commerce quindi blog.nomecommerce.it oppure internalizzare tutto con un url del tipo u.e-commerce appunto quello che è slash blog ci sono controindicazioni o reali vantaggi nell'una nell'altra soluzione allora l'unico vantaggio e non è un vantaggio da poco soprattutto se non si hanno milioni di euro a disposizione è che se abbiamo il blog all'interno del sottodomini WV ok quando facciamo l'attività del digital PR e ti è sicuro che costa perché andare a prendere un link su Glemon costa 9.000 euro piuttosto che su Ansa o di Anecronos costa comunque costa quando dobbiamo fare questa attività quindi potenziamo sia e-commerce che il blog viceversa se il blog è all'interno di un sottodominio ok blog.nomedominio.it rispetto a www.nomedominio.it sono per Google due domini completamente differenti ok quindi se sono zonando me ne sbatto posso mettere il blog anche nel terzo livello ma se io non ho tanto budget a disposizione voglio essere visibile ovviamente anche per i contenuti che faccio del blog deve comunque essere all'interno del e-commerce ok questa è essenziale questa è essenziale perché perché ormai ripeto per essere visibili bisogna comunque investire in digital PR e se il blog è all'interno dell'e-commerce con un comunicato riusciano a potenziare e-commerce anche a blog ok ok vai ti ringrazio vai pure avanti alcuni invece consigli utili ok e questi sono veramente consigli utili perché quali sono le metriche che noi consigliamo sempre ai clienti di vedere allora il dettaglio che vale del traffico capire innanzitutto ad esempio che dispositivi utilizzano i nostri utenti e se vi attivo anche l'interesse della demografia capire un attimino che ottieni che abbiamo in dettaglio del traffico organico ovviamente a pagamento social e i domini referenti ci sono i domini che portano vendite ci sono i domini che mi portano utenti con una bassa tendenza di ribalzo o un investo o un budget in quegli di che da potenziale di cliente mi fanno diventare cliente ok ad esempio chi ha store fisici è molto importante anche il traffico che arriva dalle schede Google My Business e capire se quelle schede Google My Business mi portano anche diciamo chiamate al mio store perché significa appunto che è un canale che aiuta poi anche di conseguenza il fatturato intero dell'anno ok il dettaglio poi delle sezioni e-commerce con le metriche relativi ai prodotti turisti lo sottrino meglio e quant'altro dettaglio page view con dettaglio della monetizzazione quindi se faccio affiliation piuttosto che se faccio delle newsletter capire quelle sue attività che mi portano più denaro oppure ancora il dettaglio delle collezioni pagine di list quindi quante volte vengono viste le categorie quali sono le categorie più viste o eventuali altri profondimenti condivisi come cliente ad esempio lanciamo la campagna black friday con un pop up capire quanti cliccano in quel pop up e vanno a finire nella pagina black friday quindi questi sono solo alcuni aspetti ma sono molto molto importanti per capire come sta andando diciamo la mia attività a barri di commerce ovviamente poi i consigli chiediamo che sono correlati alla seo sono quelli legati al copy al tono di voce sia sui prodotti che sulle categorie di mettere in risalto l'unicità è essenziale offrire elementi di fiducia perché se noi non siamo amazon o zalano dovevo far capire comunque gli utenti che siamo referenziati quali sono questi elementi di fiducia premi certificazioni recensioni dei clienti e le testate che parlano di noi se siamo presenti su anser di enetronos e altri portali è bene metterlo bene in vista perché agli occhi degli utenti abbiamo qualcosa in più rispetto magari al competitor che abbiamo che magari non ha queste cose qui ottimizzazione poi dell'usabilità soprattutto da mobile che ancora oggi si vede in e-commerce da mettersi le mani nei capelli l'ottimizzazione del processo di check out con continui abitesting ovviamente studiare i vostri competitor perché loro ok sono diciamo il nemico da battere ok navigate in e-commerce cercando di metterli nei panni dell'utente medio infatti molto spesso è bene farsi fare acquisti fictizi a persone che non hanno mai navigato il roster e i bombers e anche a persone di differenze età infatti se possibile possiamo sempre di far fare prove di acquisto ad amici o parenti e ovviamente prove di acquisto con più dispositivi e continui abitest abitest non solo nelle schede prodotto ok o nel carrello ma anche nell'opage per capire se una versione dell'opage è migliore rispetto ad un'altra versione cioè praticamente questi consigli questi consigli sono rivolti sia a non sprecare il traffico che sta arrivando perché ovviamente esatto esatto non sprecare il traffico e soprattutto lasciare all'utente che arriva un buon ricordo di voi perché se vi lasciate un buon ricordo lui ti ritroverà si si è un po' come diceva Oscar Wilde non c'è una seconda possibilità per fare una buona prima impressione esatto esatto soprattutto ai tempi di oggi che ci sono dei colossi come Amazon Zalante e altri che sono veramente colossi ok e che non sbagliano quindi noi dovremmo essere molto più bravi per questo il metodo di lavoro che l'ho accenerato all'inizio perché il metodo di lavoro perché il metodo di lavoro è quello che fa la differenza noi è da 15 anni che la SAA lo facciamo sempre allo stesso modo ovviamente con gli algoritmi abbiamo cambiato differente cose fra cui ad esempio l'integrazione della digital ma senza metodo di lavoro non si va da nessuna parte ok quindi dati le analisi su quello che abbiamo più il metodo di lavoro porta sempre al risultato questa è la formula qui ho lasciato per chi ci segue un link che porta ad una base dove ci sono tantissime risorse utili per l'e-commerce da come organizzare le categorie all'utilizzazione della pagina scheda prodotto eccetera 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 quindi e soprattutto ci sono delle guide per le singole piattaforme quindi è interessante una cosa di utile e adesso passiamo in crescita studio quindi perché dovrei investire nella SAA per e-commerce cosa può portarmi questo è dire da manicomio ok è un e-commerce di birre dove l'abbiamo preso nel 2017 e l'abbiamo portato a prendersi il mercato italiano a parte l'attività SAA oggi siamo concentrati poi sulla digital PA abbiamo fatto un po' di digital PA avanzata perché abbiamo creato un network di 80 mili siti verticali quindi a fianco delle testate giornalistiche verticali abbiamo creato questo network di siti verticali che ad oggi per moltissime keyword dell'attività di birre se non compare di birre se non compare al nostro mini sito ok che strategia abbiamo utilizzato per acquistare i mini siti beh siamo dati su domini nuovi lo siete possibilmente M di exact match domain quindi non so birreberger di revise quindi questi sono gli exact match domain quindi main keyword punto estensione siti verticali quindi siti verticali sì oppure i domini scaduti di birrerie perché questi domini di birre avevano già di betty in entrata da fiere del settore o da altri produttori di birra ok poi apprendendo questi domini qui ci siamo detti ma cacchio ci sono anche diverse fiere della birra andiamo a vedere se qualcuna è fallita abbiamo registrato dei birrini tra l'altro questi che vanno di betty molto importanti e ultimisi in fondo quando c'era più base siamo andati a registrare i domini top come birra notizie che anche questo è un prodotto più vecchi o migliori birre in PTT sempre per il discorso delle tipologie informazionali che vi ho fatto prima questi sono alcuni risultati quindi adesso siamo primi anche con birre dove abbiamo due risultati ok prima quello informazionale dire e provare almeno una volta nella vita le top 10 e poi quello transazionale dire da manicomio quindi da birra artigianale online ok quindi in questo caso qua per una serra o keyword competitiva abbiamo due risultati informazionale e transazionale questo è l'aumento del traffico ok da qui da 0 a quasi 40.000 e poi questi sono alcuni keyword primi prima posizione per stile wise artigianale vigno tedesco per brand o ancora per nazione birra tedesca americana inglese eccetera oppure gli abbinamenti perché poi nel corso ovviamente della consulenza sono state implementate diverse cose questo è un esempio di dire velge ok dove abbiamo lo snippet con dire velge .com l'e-commerce dire domani come e poi il mini sito quindi il competitor è già andato in terza posizione capite bene che alla SEO con tutti i paper click che c'è i risultati che portano traffico il primo il secondo già il terzo porta un pochino quindi aver scostato i competitor per quasi tutte le keyword della birra in terza quarta posizione significa aver di torto gran parte del traffico search ok è un po' come sta facendo ultimamente google con tutte quelle query risposta veloce pensate ad esempio alle keyword legate al media una volta c'è la pre-media o media .d adesso compare adesso già da tre anni compare lo snippet enorme di google ok quindi pensate a quella cosa lì porta via il 70 76% di traffico organico ok sì anche perché lo snippet come quello che riporti qui nell'esempio che poi ha ripreso un contenuto sul vostro sito ha tirato via praticamente spazio e visibilità a tutti gli altri certo certo questa è l'area come fold ok quindi ma ti faccio una domanda non puoi avvalerti della facoltà di non rispondere e poi che posso dire dipende sì puoi dire quello sì va bene non te lo escluso prima però in questo caso per esempio per far sì che google tiri fuori la lista in questo caso delle birre o comunque dell'argomento che stai cercando come le 10 migliori birre belghe c'è un pattern quindi che google riconosce che dove lui va a capire che all'interno di quella pagina c'è una lista di qualcosa e quindi propone ok è così il pattern come in questo caso un elenco puntato o molte volte va a prendersi le tabelle ad esempio nel settore finance dove abbiamo un po' di sitelli molte volte questi snippet qui vanno a prendersi le tabelle dove ad esempio dei tassi dei prestiti dei punti ok quindi lui controlla se ci sono elenchi puntati e tabelle e cerca di poi restituire il miglior risultato ok quindi in qualche modo si può sfruttare come avete fatto qui in qualche modo lo tolgo di mezzo è già successo quindi ok si può sfruttare questa caratteristica di google a proprio vantaggio proprio per dare un calcio poi agli altri esatto questa è un'altra keyword di Ravice che addirittura è un'altra che è stata abita i regionali dove qui abbiamo anche qui due risultati in questo caso qui abbiamo il transazionale l'informazionale quindi blog all'interno sempre di www e poi qui abbiamo il blog di Ravice tutti e questa roba qua è fenomenale è molto molto importante lato SEO e dalle birre passiamo a un caso studio di Line Online che è un'azienda leader nel settore antinfortunistico ma che al suo interno ha differenti cose da tagliereba al succhiatore al decisturiatore alla scarpa antinfortunistica piuttosto che stufa pellet quindi facciamo in questo caso qui anche qui lo sono in Tseo digital PR e questi qui sono gli ultimi risultati dei 6 giorni perché 6 giorni? perché avevano seguito il cliente a 4 mesi di inizio anno e poi abbiamo ripreso l'attività da un mesetto dove qui vi segnalo ad esempio che questo archivo che stufa pellet questa è la schermata di oggi di 6 novembre si è tornati in prima posizione ad un archivo che fa 90.000 di 5 ok qui abbiamo fatto un grossissimo lavoro poi nel sito ci sono tutti i dettagli del lavoro però anche qui insomma grazie all'attività Sera digital PR abbiamo super start competitor del carico di il romerlé mano a mano dico bravo eccetera eccetera e ci sono andati talmente bene che il cliente poi mi ha regalato anche la macchinetta ok e quindi è stato un super super lavoro e l'ultimo ok è un caso studio relativo al fashion di Papillon dove abbiamo iniziato l'attività diciamo circa giugno e anche qui insomma ci siamo presi delle belle soddisfazioni perché questo esempio è l'ultimo mese abbiamo portato diciamo in prima fase la keyword Papillon Uomo adesso siamo terzi però eravamo anche primi e e molte altre keyword anche se in questo caso qui ok avere competitor come Amazon e Zalando fa sì che quando sei in SERP e combatti con questi mostri qui il traffico organico portato da una keyword di 5.400 con un'altra ricerca non è poi molto perché lì te la giochi con competitor che hanno tanto tanto trust e quindi stanno in questo caso qui essere bravi e fare tipo delle attività di branding aggiuntive ok in Facebook in Instagram piuttosto che sulla red display per far capire percepire il valore e la qualità di questo singolo prodotto ok in modo tale da differenziarsi dal resto dei competitor quindi puntare più anche sulla qualità sulla SERP e la vita e quindi queste cose qui sono cose che vanno oltre la SERP ma sono strettamente correlate perché poi se vogliamo aumentare il tasso di CPR della SERP dobbiamo usare questi metodi ok ecco io qui avrei finito le slide qui rilancio il da loro per scaricare le slide e con la possibilità il 2 dicembre insomma che avete una settimana di tempo eventualmente se volete si possono anche fare tutti anche per l'analisi live no interessante l'offerta Black Friday bene bene allora Massimo ti ringrazio tantissimo per questa intro e soprattutto per le che esiste di presentate e quella della birra era particolarmente interessante per via della complessità evidentemente del progetto ok su un settore così mass market come può essere quello della birra anche se sembra una nicchia alla fin fine ma credo che i numeri siano abbastanza importanti sicuramente sono maggiori di quelli del papillon ecco esatto esatto anche se il competito del papillon nel mio caso erano molto ci sono molto molto più forti rispetto a quelli della birra la fortuna che avevo avuto io a parte incontrare il proprietario della birra è proprio che ho visto che quel mercato lì in Italia lo diciamo non dico la strada di discesa ma c'erano buone possibilità di prendersi veramente il mercato perché con gli 80 domini verticali che viene registrato con l'attività di Steppia che è stata fatta insomma si scendiamo abbastanza forti ecco da qui negli anni a venire sul discorso search quindi visibilità organizzata e quindi è stato è stato diciamo un bel progetto che sta ancora dando delle belle soddisfazioni bene bene comunque se Line Online ti ha regalato il tagliaerba per il raggiungimento degli obiettivi non oso immaginare quanta birra c'hai a casa ok allora senti passerei a questo punto alle domande e vediamo se ne sono arrivate live ce n'è una e allora io inizierei intanto con questa domanda che è arrivata live per poi andare sulle altre domande quelle arrivate già nei giorni precedenti le altre che ci siamo segnati e non vedo da questo da questa schermata chi l'ha fatta lascio la parola a Marco che magari tirerà in ballo il sì buonasera e si è arrivata una domanda da parte di Roberto a cui lascerei quindi la parola era una considerazione su WooCommerce e il blog su WordPress Roberto adesso hai il microfono attivato e puoi fare la domanda sì prego forse c'è qualche problema con il microfono leggila con tu Marco allora se volete la leggo anch'io che ce l'ho qua davanti Roberto chiede il blog di WooCommerce con WordPress e WooCommerce si sostanzia in una pagina con all'interno i collegamenti e gli articoli ok sì dipende però nel senso che dipende sempre in che ottica viene fatto il post del blog l'idea di base è quella ok noi ad esempio per dire di WooCommerce abbiamo fatto una cosa particolare nel senso che abbiamo fatto adattare all'interno del blog post di WooCommerce i tag del e-commerce e quindi possiamo selezionare per ogni articolo del blog le schede prodotte da far mostrare come articoli correlati quindi come vedi le applicazioni alternative in quel modo lì ok gli editori sono liberi di inserire i contenuti a proprio piacimento devono solo taggarmi diciamo il tag che più rappresenta le pire per quell'articolo e di conseguenza alla fine del blog post mi trovo tutti diciamo i prodotti legati a quell'articolo in questo modo qui aumento l'interno e l'interno aumento la semantica di quel blog post e faccio contento anche Google perché vede che non è solo un articolo del blog ma anzi quell'articolo del blog riguarda poi prodotti vendibili e acquistabili relativi ad avvitare ecco questo è in quanto sì benissimo leggerò a questo punto anche una domanda che è arrivata invece nei giorni scorsi da parte di Fabio che chiedeva in un mercato con un così elevato tasso di competitività che si concretizza con un alto grado di ads quindi annunci in shopping e la conseguente occupazione di buona parte delle prime pagine di Google quale strategia di contrasto può essere attuata in ottica SEO allora la strategia di contrasto in ottica SEO quando abbiamo sempre tessati del shopping per click è quella di cercare determinati keyword inerenti al mio settore che magari possono intercettare quella determinata richiesta quindi lavorare diciamo sulle keyword correlati alla keyword principale ok e poi ovviamente cercare sempre di essere posizionati più a posizione per quella determinata keyword però diciamo la cosa migliore in questo caso qui è proprio quella di rafforzare l'e-commerce con articoli informativi che possono far atterrare l'utente cercando cioè che cerca magari quella keyword ok tipo discorso delle birre le migliori birre veghe ok magari cercando le migliori birre veghe non compaiono gli annunci ma compaiono accompagnare da mezzogli articoli informazionali e allora in questo caso riusciamo a far tutto e magari in attesa che arrivi un'altra domanda io manderei anche due brevi sondaggi così per tastare il pubblico allora il primo riguarda proprio l'attività SEO sul proprio sito web quindi preghiamo di rispondere sì o no se si attua attività SEO anche perché è un'attività che spesso viene purtroppo sottostimata e lasciata un po' andare anche a favore di magari altre attività come AdWords o altro ed è un peccato perché si può capitalizzare magari meglio nel tempo una domanda apposta puoi fare a massimo su questo investendo invece sulla parte di organico ok ci hanno risposto il 71% sì il 29% no ok manderà anche una delle domande che me l'ho segnato se stai facendo attività di link building esterno visto che è uno dei fattori di posizionamento giusto Massimo esatto 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 ormai è tornata in auge da anni visto che Google è partita da lì poi alla fin fine con il ranking basato sul e sei ultimamente comunque l'ha anche ammesso nel senso che circa due mesi fa ha rilasciato degli attributi nuovi per i link no prima avevamo il rally no follow dove dicevano non seguire link ha aggiunto il rally QGC quindi usare il genere di content e il rally sponsor giusto per perché vuole cercare di capire al meglio se i quei link sono diciamo naturali o pagati e quindi anche una missione per dire guardate che non riusciamo attualmente ancora a capire quali sono i link artificiali aiutateci voi però è normale che sia così nel senso che quando abbiamo tutti i siti che bene o male sono ottimizzati diciamo quasi bene poi la differenza ovviamente è bene data dalle menzioni dalle citazioni ed è normale sia così qui in Italia noi abbiamo avuto un forte sentore di questo a febbraio 2017 quando è arrivato Fred Update ovviamente oltre all'attività della consulenza con i clienti noi siamo partner e abbiamo un centinaio di siti o che in ambito finance e in ambito finance quando è arrivato il Fred abbiamo visto questa cosa qui perché a differenza dei blog verticali di portali verticali che per noi abbiamo notato proprio un aumento di portali aggregatori tipo facile segugio piuttosto che le banche proprio perché magari facevano pubblicità comunque erano brand conosciuti quindi invenzioni citazioni e anche ricerche mensili e ragazzi a brand tutti questi fattori qui fanno parte dei fattori off-site è per questo che è importante l'attività di città non magari sempre focalizzandosi sui link ma proprio focalizzandosi anche sulle dimensioni delle brand si guarda hai anche risposto a una domanda che c'era arrivata proprio ieri da Massimo che chiedeva appunto quant'è l'impatto che impatto ha l'attività di link building e digital PR nel mercato italiano quindi guarda ci confermi che l'impatto è importante se me lo dicevi sei anni fa che avrei detto poco o niente ok nei suoi spesi anni fa ero un po' un mercato largine e la SEO insomma se la facevi un attimo dopo la testa è andato in su molto molto bene ti dico questa cosa qui abbiamo preso un cliente turco che fa trapianto di capelli in due mesi l'abbiamo portato in prima posizione con trapianto a capelli in due mesi di solito la SEO per vedere i risultati in 3-4 mesi si vedono questo cliente qui l'abbiamo preso il primo mese l'abbiamo utilizzato il sito e fatto un po' di digital PR il secondo mese abbiamo spinto parecchio con tutti i portali comunque brand quindi non keyword e siamo andati in prima posizione per una keyword molto molto competitiva a livello di marketing immagino che su AdWords quella keyword lì costi un patrimonio costi i contatti quindi ok allora ti farei un altro paio di domande che non arrivate nei giorni precedenti ad alcune in effetti hai già risposto durante lo speech cioè durante la parte iniziale e ad alcune stiamo rispondendo già adesso però ce n'è una interessante che sicuramente il come si scelgono le chiavi giuste a parte i tool c'è già parlato di SEMrush degli altri tool ma qual è la strategia per sceglierle cioè quali sono le metriche poi per identificare quali sono le chiavi giuste allora quali sono le metriche nel senso che si parte sempre parliamo di e-commerce ok quindi le metriche che dico sono queste come si chiama il prodotto quali sono le categorie andiamo a vedere i competitor perché promuoto probabilmente 90 su 100 c'è qualcuno che l'ha fatto prima di te l'analisi dei competitor che facciamo noi serve proprio a questo a fare un recupero delle informazioni e poi proporre al cliente non solo l'equivolo ma anche la giusta liberatura ok però se non analizziamo i competitor non possiamo fare questa cosa qui partendo ad esempio non so dai Google Trends o dallo strumento delle parole chiave di Google Payper Click o da SEMrash prima analizziamo il settore il mercato Italia Inghilterra Spagna quello che è facciamo un record di primi 5-6 competitor e in base a quello dopo prendiamo le giuste decisioni allora in questa maniera qua con questo metodo qui abbiamo meno possibilità di svegliare ok poi come si scegono le keyword anche lì si guarda il volume di ricerca però molte volte il volume di ricerca non vuol dire nulla perché magari non magari ma così le keyword generiche sono quelle che hanno un altro volume di ricerca ma chi cerca ad esempio CRM faccio un esempio pratico perché insomma la mia seduta chi cerca CRM è una validi keyword nel senso che chi cerca CRM vuole capire cosa è un CRM cosa fa un CRM i vantaggi del CRM viceversa chi cerca ad esempio CRM per settore medico anche se Google ti dà per zero ricerche ma quella lì è la keyword transazionale quella lì vende ok quindi bisogna fare questa distinzione qui ed è per questo che è importante diciamo avere un metodo di analisi di ricerca e ovviamente di studio ok poi ogni settore è diverso rispetto a un altro la Juventus sono tutte keyword legate al brand t-shirt Juventus cappellini Juventus zaini scuola Juventus e quindi quella lì è facile ok ma viceversa ci sono altri settori dove lì bisogna proprio vedere ad esempio per Papillon cercano Papillon in seta Papillon in botone quindi le fantasie i colori Papillon rosso piuttosto che magari Papillon per natalizi quindi a seconda del settore ci sono differenti metodologie per fare la ricerca delle keyword quindi soluzione migliore analisi mercato barra competitor e utilizzo di quegli strumenti per cercare di capire ok quale sia che poi anche parlare di chi ormai è limitante bisogna parlare per topic per argomenti ovvio che so il prodotto che ha magari quella tipologia di attributi vanno inseriti quegli attributi lì però bisogna sempre ragionare per cercare di scegliere all'interno della mia pagina la miglior semantica possibile quindi cercare di utilizzare le migliori parole possibili per far capire che io sono il leader in quel mercato di quella cosa lì quindi sinonimi plurali modalità di utilizzo ok vi faccio questo esempio per stufe pellet per arrivare sempre nelle prime posizioni oltre a parlare delle stufe pellet abbiamo fatto un paragraffetto che parlava anche del pellet dei vantaggi del pellet sembra una cazzata ma ha funzionato ma perché se l'abbiamo fatta non è che c'era del mattino ho detto stamattina facciamo così no abbiamo analizzato i competitor abbiamo analizzato i differenti mercati e in base allo studio e all'analisi e al metodo l'abbiamo poi applicato e sono arrivati i risultati quindi diciamo che comunque la strategia di pianificare gestire un content marketing associato poi a una strategia di posizionamento organico è la strada maestra a questo punto cioè volendo si potrebbe anche fare se o non volendolo fare attivamente cioè con con quello scopo lì banalmente producendo contenuti su un determinato argomento e da quel punto di vista Google comunque recepisce la cosa e collega all'argomento al prodotto che si sta vendendo esatto guarda ti dirò anche una cosa molto importante che se non è arrivato in Italia in questi giorni arriverà a momenti che c'è stato allora insieme a noi invece è stato un grosso ok ma in America Google Earth è giusto Google Earth Google Earth cosa va a fare questo algoritmo questo algoritmo vi va a vedere come sono strutturati i contenuti di sito quindi se il contenuto è solo ottimizzato arriva la stangata bella grossa ok anche un meno 30 un 50 se andate a vedere su Semerash ad esempio cito Semerash perché ultimamente è molto 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 migliorato e le stime di traffico si avvicinano anche al time di analytics se andate a vedere il sito di aranzulla.it troverete la bella sorpresa ok questo è un rollo meno 50% sì perché questo perché i testi che fa l'Azulla sono sì belli però probabilmente sono un po' un cc come diciamo in Veneto sono ottimizzati ok bene probabilmente ok BERT sta arrivando in Italia ok quindi anche a maggior ragione quando scrivete un articolo contenuto dovete ovviamente tenere in mente che qua abbiamo un obiettivo di pubblici utenti per farli diventare clienti ma anche motori di ricerca però dobbiamo stare attenti a non esagerare ok soprattutto adesso che è arrivato Google BERT ok ok quindi ok ottimizzare ma ancora di più rispetto al passato Google se ne ammosca quando si va a sovraottimizzare un sito quindi esatto intensity eccessive testi praticamente ripetitivi perché in effetti molte guida di Aranzulla partono da Amedeva le volte quando si devono spiegare un qualcosa partono davvero da molto molto dietro allora Marco mi diceva che è arrivata un'altra domanda puoi leggere direttamente se vuoi abbiamo una domanda da parte di Vitaly che chiede per prodotti con assortimento è meglio ottimizzare il testo di una singola scheda quindi con varianti in select oppure avere tante schede diverse e ottimizzarle singolarmente cercando di usare keyword simili è una bella domanda questo è il dilemma delle varianti soprattutto nel settore moda immagino sì anche qui devo dire dipende dipende dal settore esempio profumi i profumi è la variante dei millilitri della boccetta in sto caso è un profumo ben esbatto faccio una scheda univoca con le varianti in select ok e quindi abbiamo la scheda univoca potenziata diciamo per il nome del profumo con il nome del brand nel caso della moda dipende ok ti faccio un esempio papillon rosso in seta papillon verde in seta stesso modello magari con la stessa amantesia ma uno è rosso uno è verde ecco in quel caso consiglio di variare ma perché questo perché magari dei papillon non ce ne sono tantissimi ok quindi il numero è limitato e quindi è meglio che io mi focalizzi proprio sui miei contenuti per cercare di sopravvanzare il mio competito quindi più specifico sono meglio è quindi qui dipende anche dalla tipologia di catalogo di prodotti ok quindi se posso aggiungere un altro elemento perché spesso alle volte vengono fatte delle scelte magari relative al posizionamento organico in questo caso specifico perché mi è già capitato di lavorare in passato quando nell'altra vita facevo il consulente a mia volta di lavorare con con altri consulenti che si occupavano di SEO e dicevano no ma assolutamente si fa un prodotto con le varie varianti in modo che non ci sia duplicazione di contenuto ma il problema di fondo era poi di user experience perché quando l'utente atterrava sul sito e magari stava cercando per cambiare gli attributi sono d'accordo beh sono d'accordo sono d'accordo con te 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 dimmi sì sì ci sono però dei casi a limite no discorsi di proprio se uno ha tantissimi prodotti a catalogo allora conviene diciamo per cercare di essere più visibile fare questo discorso qui anche forse ai danni dell'usabilità ma ciò non toglie che se uno programmatore è schillato ti faccia cambiare il parametro all'interno di quella scheda e ci sia il canonical che rimanda sempre al verale originale la scheda principale esatto quindi ci sono diversi metodi diciamo che anch'io sono qui per fare solitamente una scheda unico con le varianti però c'è sempre dipende dipende dal mercato e dalla minchia di mercato sì sul settore abbigliamento in particolare avevamo già avuto degli esempi molto molto pratici dove andando a duplicare le schede e quindi a esplodere le varianti all'interno del listing si ottenevano dei risultati di conversione di un certo tipo radunandoli cioè mettendoli insieme il problema è che si si aveva meno tra virgolette penalizzazione lato SEO o comunque una minore efficacia su quel singolo prodotto ma l'utente che stava cercando la maglietta verde perché doveva fare l'abbinamento e non vedendola perché nel listing vedeva la maglietta sempre nera in foto e la variante verde era all'interno della scheda prodotto lì le vendite ne risentivano in maniera importante tempo fa avevo fatto un'analisi per esempio sul sito di Luisa via Roma stavo ricercando adesso per vedere un esempio ma ora così al volo non lo stavo trovando e c'erano per esempio le magliette o comunque i prodotti con varianti colori esplose già all'interno della ricerca interna del sito proprio per questo motivo cioè un utente che è sul sito e sta cercando un abbinamento colore per esempio per abbinare un accessorio o altro ha bisogno di visualizzarlo se io li faccio vedere che c'è la maglietta nera e poi all'interno c'è la variante blu se lui ha bisogno della variante blu non si prende la briga o magari non ci pensa a cliccare sulla nera per vedere se c'è la variante blu quindi poi c'è anche questo questo problema come diceva giustamente Massimo se poi abbiamo a disposizione un programmatore diciamo in gamba che può sistemarci un po' di cose magari metterle il canonical che punta poi su una scheda che battezzeremo come padre da quel punto di vista ci aiuta lato SEO e non ci penalizza lato user experience esatto esatto ok immagino abbiamo dato la risposta c'erano altre domande qui no ne vedo un'altra ne pesco un'altra tra quelle che ci erano arrivate in precedenza per esempio quali sono gli errori più comuni ne hai già parlato prima delle varie maree di 404 301 o altro ma ti faccio una domanda un po' più specifica magari è un caso un po' limite però mi è capitato anche questo nel caso in cui un sito faccia un cambio di piattaforma quindi non lo so si passa dal prestashop al magento o ad altro senza fare troppi nomi c'è ovviamente un cambio della struttura delle url anche abbastanza importante spesso quanto è importante fare il mapping delle vecchie verso il nuovo per non perdere posizionamento allora dipende nel senso che allora di solito guarda me è successo quando aveva fatto la migrazione delle juventus che prima era sulla piattaforma e poi è diventata piattaforma custom quindi è cambiata completamente cosa dobbiamo fare in questo caso qua passaggio 1 ricerca di tutti i prodotti che ricevono per click esterni prima cosa quelle lì sono le url io le chiamo gold ok quelle che devo avere in redale 301 puntuale passaggio 2 estratto dei primi 150 prodotti più venduti e anche lì redale puntuale passaggio 3 estratto delle prime 150 prodotti più visti e lì estratto cioè redale puntuale non è che se ho guardato di 10.000 prodotti vado a fare redale perché altrimenti il server si imbicca ogni volta che c'è una richiesta ok se vogliamo di alta solidarietà come black friday o novembre dicembre è la morte ok quindi dobbiamo sempre cercare di capire e studiare la soluzione migliore se la vecchia piattaforma per fare le url aveva sempre quel pattern lì magari con una regola riesco a capire che quello è il pattern e con una regola faccio tutti i miei regali ok nella nuova piattaforma molte volte però nel caso di navigazione che adesso stiamo facendo abbiamo piattaforma casco ok e le url dei prodotti fino a 5 mesi fa venivano fatte in un modo da 5-7 mesi in un altro e negli ultimi 3 mesi in un altro ancora e allora lì è da spararsi in bocca allora lì cosa si fa si prendono i 100 prodotti più importanti più venduti più visti quelli con backlink e si fanno eredare puntuali di quella di quei prodotti lì per gli altri si fanno sempre con semera se andiamo a vedere che sono i prodotti che hanno più tigure posizionate nel traffico organico e si fanno eredare di quelli lì gli altri si mandano nelle categorie quindi si fanno eredare non puntuali non eredare dalla categoria ok quindi diciamo che vanno analizzati a questo punto in base all'opportunità è ovvio che se un prodotto non ha link in giro non fa traffico giustamente come dici tu è inutile appesantire il sistema con un redirect per qualcosa che non ha non ha valore magari era anche posizionato bene ma se non ha mai avuto traffico evidentemente non aveva neanche chiavi di ricerca corrispondenti esatto ok mi diceva Marco che c'era un'altra domanda sì c'era Pasquale anche che voleva intervenire vediamo se ha il microfono e vuole intervenire Pasquale ci senti ah buonasera mi sentite sì ciao Pasquale perfetto ciao grazie intanto grazie della sessione perché è stata veramente molto interessante mi è sfuggita una cosa che avete parlato però non ho capito bene l'importanza dei link interni cioè e-commerce con all'interno anche al blog quanto i link interni tra prodotti articoli blog articoli blog prodotti sono importanti non ho capito bene se sono importanti o no mi è sfuggito i link sono sempre importanti parte da questa e allora ti faccio un esempio se hai Google davanti o se hai il browser vai su Zalando anzi andiamo insieme così visto che ho il potere della condivisione del monitor allora andiamo su Zalando.p questo è Zalando ok ho un pizzo di Zalando vedi questi qui sì sì perfetto questi sono link interni questi qui mandano il top brand e questi qui mandano il top category scendiamo e qui abbiamo questa qui la chiamo fast-sharp e footer ok se andiamo qui troverai questo bel linketto qui si chiama ABC della moda che sarà mai la ABC della moda clicchiamoci e troviamo un bel glossario con all'interno altri anchor text quindi anche anche aridondanti cioè nel senso che guarda qui cosa c'è sì sì ok questo è Zalando bene prendiamo un altro sito andiamo a vedere le romerle ad esempio clicchiamo su le romerle vado anche di organico quindi vi faccio risparmiare in ottica di perciari allora qui abbiamo su le romerle novità e servizi aiuto e contatti prodotti del momento guarda qui che ho stufe a pelle keyword secca stufe a pelle che punta la pagina interna carta da parati ecco vedete queste keyword qui queste keyword qui scusate era partito il click sono le keyword più importanti per le romerle in questo momento ok se ci pensi bene guarda stufe a pelle carta da parati termosifoni cronotermostati sono tutte keyword stagionali ok e sono linkate da non page se tu torni qui a marzo vedrai che questi link non ci sono più ok poi le romerle fa anche questa bella cosa qui idee progetti però adesso vediamo se ti trovo non mi ricordo più una volta eccola qua guarda qua ristrutturazione bagno ci clicco quindi Zalando aveva la bc della moda le romerle invece ha tutte queste lenni qui dove all'interno allinca le categorie e i sottoprodotti ok ha fatto delle lenni che aiutano poi anche la SEO chiamando le guide per ristrutturare il bagno ti faccio un altro esempio ok Juventus questo mi viene utile andiamo nel footer qui giochi in casa esatto scusate non so che lo metti in casa che è store Juventus e commerce eccolo qua best seller top categories ok questi sono i prodotti più importanti questi sono le categorie ultimissimo esempio mentre vai subire da manicomio una domanda spudorata libero di non rispondere quei best seller lì sono effettivamente i best seller o sono quelli a cui vuoi dare visibilità non c'è quella domanda comunque vede da manicomio è di rice che è la più più importante fa anche più delle birre artigianali e poi qui non ho messa altre ok e questa qui è anche qui l'area per footer quindi questi qui sono molto molto importanti ok poi se vedi qui ci sono questi due linketti qui stili e brand dove cliccando su stili ho la mappa in formato html di tutte le categorie di tag quindi il bel il bel crawlerino di google a distanza di un clic dall'home page si trova tutti i link sia per stili che per brand grazie mille ok questa cosa qua è oro fanne buon uso ok grazie mille grazie allora Massimo con questa domanda chiuderei il talk perché siamo alle alle 18 e ricordo a tutti che il talk sarà disponibile poi anche sul nostro canale di youtube e come al solito molte delle persone che magari non sono riuscite a vedere adesso il talk lo faranno poi in seconda battuta e il canale sul canale youtube sarà disponibile tra domani e dopodomani al massimo e il materiale di massimo lo potete scaricare come vedete qui dal link che vi ha lasciato e fino al 2 dicembre ricordate la possibilità di approfittare anche di far due chiacchiere con massimo sul proprio progetto e ringrazio massimo per la sua disponibilità e vi ricordo che il 9 Marco il 9 dicembre quindi abbiamo l'ultimo talk dell'anno e parleremo di gestione dei resi in maniera diciamo virtuosa e intelligente con Dagmar Spork di Sales Supply e parleremo un po' dei resi a tutto tondo visto che si avvicina alla stagione purtroppo dei resi da un certo punto di vista e anche quella delle vendite ma arriveranno anche i resi per vari motivi vediamo come gestirli al meglio quindi ringrazio tutti ringrazio ancora massimo grazie a voi grazie a voi per l'invito spero di avermi dato almeno un suggerimento assolutamente io mi sono segnato un po' di cose varie che ci possono ci possono servire in generale e grazie a tutti per l'attenzione e ci si risente il 9 al sempre alle 17 fino alle 18 con Dagmar buona serata a tutti buona serata a tutti ciao 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 ciao